Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, noi siamo The Fishing Lab e oggi andremo ad affrontare una mezzogiornata di pesca spinning in un laghetto chiamato La Susa che si trova sotto il centro storico di Porciano e mi raccomando se vi capita di andarci, andateci perché ci sono davvero di bei pesci, vedrete poi nel video buona visione! ragazzi per il video del boccalone c'è stato un piccolo equivoco cioè avevo settato male la fotocamera a Thomas perché io non avevo l'attrezzatura e io ho dato il mio telefono, solo il problema è che io avevo settato quella che sto usando adesso quindi quella frontale, non quella grande angolare dietro e quindi ha ripreso la maglia di Thomas praticamente io la clip ve la metto perché c'è l'audio dopo ve la metto la foto ma mi dispiace ma non si è visto ma l'hai visto? ce l'hai? aspetta 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 ragazzi, primo passo raghetto molto difficile ma noi ce l'abbiamo fatta mamma mia che emozioni eh! vai! sì Tommy! mi ha fatto però te l'ho fatto più a io, cioè l'ho fatto uscire quello l'ho detto che stanno qui no, a dove non arrivando? no, a dove non arriviamo? non mi non mi ha fatto mai ma è l'ora sì! 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 mettiamo la canna no, scherzo! no, era qua sotto! ma l'hai visto! ma si è ritardato! un'altra volta! che era qui! ma si è ritardato! ma si è ritardato! che fatti? che seco! rotto! no! no! la gomma! eccola! si! eh! l'avrò posato sul fiore! sicuramente! oh! guarda! dai io metto la gomma killer adesso! a Grazie a tutti. 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 Tu, 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 si è rotto il filo. Ma porca. Si è rotto il filo. Il video finisce qua ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Se voi siete dei perugiai o dintorni fate un salto a quel laghetto, al laghetto della Susa che si trova a Corciano sotto il centro storico. È un laghetto molto bello dove possono uscire quei pesci, se ci si impegna a pescare, possono uscire davvero davvero dei bei pesci. Ci sono anche le carpe, ci sono anche le carpe, ma noi preferiamo andarci a spin, però se siete negli intorni e cercate un posto dove andare a pesca, mi raccomando, andateci. Noi ve lo consigliamo molto, e spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate like e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi. Io vi auguro una buona giornata, ciao!